Buongiorno a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo vlogmas oggi è il 2 dicembre e lo vedrete in diretta il 2 dicembre Allora intanto vi chiedo scusa veramente tanto se ieri è stato un vlogmas un po' improvvisato ma adesso vi spiego subito i vari motivi Che altro vi voglio spiegare come saranno strutturati questi vlogmas Però prima di spiegarvi come sono strutturati vi spiego che ieri purtroppo col fatto che Loris è il mio ragazzo ha avuto un corso Io sono stata un po' presa dal imprevisto e io odio gli imprevisti, li odio veramente tanto E quindi non sono riuscita a organizzarmi in maniera decente per fare il primo vlogmas Però a noi non ci importa, l'importante è che il risultato l'abbiamo fatto, l'abbiamo ottenuto quindi non importa almeno abbiamo iniziato Poi un po' anzi ne parleremo anche di questa cosa ma sicuramente in un altro vlogmas Detto questo vi voglio spiegare molto brevemente come funzioneranno questi vlogmas che porterò di giorno in giorno Allora intanto pubblicherò un video ogni giorno fino al 24 dicembre che saranno semplicemente dei vlogmas perché è la tradizione Di solito la maggior parte delle persone, almeno di chi fa i vlogmas che guardo io, fanno il video il primo dicembre e lo portano su youtube il 2 dicembre Giustamente perché devono vloggare e fare Invece io voglio fare in modo che in diretta il giorno stesso venga pubblicato la sera Quindi io con queste mani sembro tipo un politico che sta esponendo il suo discorso elettorale No vabbè togliamo le mani, comunque no, volevo spiegare appunto che secondo me è bello che sia molto veritiero, molto in diretta diciamo il giorno stesso in real time Però onestamente vi voglio dire che questo mi toglierà tempo dall'editing perché ieri ad esempio per pubblicare il primo ci ho messo due ore Perché mi sono divertita a mettere scritte robe però mi rendo conto che se voglio pubblicare un video al giorno con tutte le cose che ho da fare Non riesco a fare tutto questo circo di editing e quindi vi chiedo già scusa magari saranno dei video sicuramente Veloci, dinamici e anche brevi però magari non sarà un editing perfetto, un editing super super figo estetico Quindi io cercherò di fare il massimo però devo cercare di fare massima resa in meno tempo possibile Però voglio portare dei contenuti ovviamente belli Quindi intanto questa premessa Poi un'altra cosa in questi vlogmas diciamo che la cosa principale sarà aprire insieme i calendari dell'avvento Perché è una cosa che io adoro, che ho scoperto solo negli ultimi anni Io da piccola in me non ho mai avuto dei calendari dell'avvento da aprire Quindi è una cosa che mi riporta molto nell'essere bambina perché appunto questa cosa nella mia infanzia non c'è mai stata purtroppo E ogni giorno vorrei anche parlarvi di qualcosa, di magari qualcosa che riguarda la mia vita, di qualche esperienza che ho fatto, di qualcosa che sto facendo Perché effettivamente è un periodo molto molto particolare per me E poi come cosa finale vorrei anche aggiungere la classifica di come posiziono i prodotti che mi hanno trovato nel calendario dell'avvento Questo perché? Perché rende la cosa un po' più divertente, un po' più spommeggiante e quindi mi fa molto piacere ecco farlo E visto che io ieri non l'ho fatto perché appunto ripeto ero presa dal giorno che è stato veramente super negativo Che ho le mie cose quindi già quello, in più è stata una giornata un po' che era un po' negativa Insomma non è stata una grandissima giornata ieri però il momento che eravamo io e voi ecco è stato molto speciale Quindi ci tengo a fare questa precisazione Prima però di fare la classifica di ieri vi voglio spiegare che anche il video di oggi sarà molto parlato in questo ambito ovvero in ufficio Sono in ufficio in questo momento perché io preferisco, cioè io amo fare i video in maniera molto intima, personale E sapere che c'è qualcuno nella casa anche se è Loris che io lo amo tantissimo tutto quello che volete Però a me piace che questi momenti siano solo nostri Un po' come quando dovete parlare con la vostra migliore amica dei fatti vostri Per me è un po' la stessa cosa quindi oggi la maggior parte del video sarà con questo sfondo orrendo Ma però forse anche abbastanza serio con questi led in faccia che non mi rendono decisamente più carina Anzi peggio, cioè già non sono un gran vedere in più questi led non mi aiutano Però diciamo che sarà la maggior parte del video di oggi perché anche oggi tutto il giorno sarà in casa E anche se vai in altre stanze e robe io proprio sento che non sono da sola al 100% Quindi questa cosa un po' mi mette ansia da prestazione ecco Quindi l'unico momento in cui sarò in casa probabilmente sarà quando apriamo i calendari dell'avvento Perché appunto quelli sono in casa non è che me li posso portare in ufficio per ovvi motivi Intanto partirei con la classifica di ieri che sinceramente ieri è stata una giornata un po' così così per i calendari dell'avvento Non mi hanno fatto impazzire e urlare alla gioia La mia personale classifica è nel primo posto diciamo perché non saprei quale preferisco di due Perché vi ripeto non c'è niente che mi ha particolarmente indusiasmata o cose Speriamo che oggi ci rifacciamo diciamo E quindi al primo posto metterei a pari merito Ave May Quindi la candela che ho anche usato ieri Che però essendo così piccola secondo me il profumo non è tanto persistente come le grandi Perché sono piena di candele di quelle grandi o almeno medie Secondo me quelle piccole non rendono troppo giustizia il profumo Però è un modo per far sentire il profumo Quindi ci sta sicuramente questa cosa E anche bottega verde perché comunque i mascara diciamo che ultimamente non li sto tanto usando Ma vabbè questo non importa Secondo me è un po' un passeport per tutti Per la signora più anziana alla giovincella Quindi è un prodotto secondo me makeup da trovare Che è molto molto facile Molto soddisfacente per chiunque Quindi li metto tutti e due al primo posto Al secondo posto, terzo posto Non so neanche come definirli Metterei il profumo perché comunque è una buona idea È una buona cosa Infatti anche questa sarei indecisa se metterla al primo posto Perché vi ripeto non c'è una cosa che mi ha particolarmente indusiasmato Siamo tutte sulla stessa linea Però al profumo magari non lo metto tra i primi posti Per il profumo in sé che è molto fresco Molto erboso Molto alpino Molto pino Non so come definire Comunque un profumo molto fresco E a me sinceramente se ormai avete visto qualche mio video A me piacciono i profumi belli dolci Belli pesi Belli non so Arrabbeggianti diciamo Quindi preferisco queste cose E sinceramente il profumo che ho trovato Come il profumo in sé non mi ha fatto impazzire Peccato perché ho visto nel sito Che ci sono delle varie profumazioni E questa cosa mi ha fatto dire Perché è proprio quella che non mi piace Perché altre profumazioni che ho trovato Invece mi sembravano molto molto carine Quindi niente Questa la metto al secondo barra terzo posto E ultimo posto metto quello di Creamy Shop Perché sinceramente è un prodotto che io non ho mai usato Che non ricerco Diciamo che è normale che in 24 giorni Hanno dovuto mettere qualcosa di simile Perché non possono mettere per 24 giorni Calendari, quaderni, robe così Oppure penne Cioè ci sta un po' che abbiano fatto qualcosa di inventivo Quindi anzi secondo me chi diciamo Adora questo mondo di lettering Di scrivere, di disegnare Adorerà tantissimo Io personalmente no Quindi lo metto al quarto posto Però comunque è un bel prodotto Ma diciamo che me lo poteva aspettare benissimo Dal calendario Dal negozio in sé Da Miss Creamy Creamy Che appunto lei ama queste cose Io questo calendario dell'avvento L'ho preso soprattutto perché appunto Amo il mondo della cartoleria in generale Sono un po' cartopazza dentro Anche se non è una cosa che ho mai troppo fatto Diciamo comunque che in linea generale non è male come prodotto Comunque questa è la mia classifica Diciamo ultima di ieri Vedremo dopo quella di oggi O non lo so quando Insomma appena ho modo di dirvela Ve la dirò Appena ho scoperto quali sono i prodotti Perché ancora non li ho aperti Poi comunque ovviamente li apriremo insieme Bene ragazzi Eccoci qua col calendario dell'avvento E partiamo come sempre da questo di Min Bisogna cercare il numero 2 Che oggi è il numero 2 E vi giuro che non lo sto trovando Ah è questo qua Ok questo qua lungo Vediamo subito che cos'è Allora intanto come frase E questa cosa mi piace Che in ogni diciamo scatolina c'è una frase È scritto il vino bianco I peciocchi vanno sempre in frigo Quindi mi viene da dire Che sia una cosa appunto Tipo peciocchi Una roba simile Vediamo un po' Ed ecco qua Dei peciocchi di questo marchio Ondo Balance your own beauty Sì Che hanno probiotici E cicca Penso sia la Oddio adesso mi sfugge il nome Comunque sì è molto calmante questa in teoria Ed è una maschera Pro generale Non è una maschera con tornocchi È scritto qua Maschera in tessuto Piodegradabile Aiuta a calmare Proteggere la pelle del viso E rafforzare la sua barriera Protettiva Ok è una maschera Immaginavo che in queste lunghe Ci siano delle maschere o cose del genere Perché effettivamente Vista la grandezza Non credo che ci possa stare altro Comunque sì Ci sta Mi piace questa maschera Ora passiamo a quello di Hava e mei Che qua ogni volta Trovare i numerini Non è facile Perché incontro luce Poi qui non è che io abbia una luce Chissà quanto valida Raga Non la sto trovando Ok l'ho trovata Era lì in alto Allora vediamo cosa c'è Uh bello 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 Questa mi sa che è una limited edition Bella La Winterland Lapland Bello Che lapland Oh bellissima raga Bellissima Esce un profumo Ma guardate che bel colore Cioè Allora questa è un po' più grande Di quella di ieri Già questa forma Mi ispira di più No raga è buonissima Allora anche questa Non è la mia tipologia di profumo Ok Cioè preferisco altri profumi più dolci Però è molto buona Magari poi vi metto dei riferimenti Di che cosa ha Ma veramente Cioè Ma qui guardate che bel blu Bel blu Blu nevi No no Bellissimo Qui a sto giro abbiamo avuto anche la scatolina In quella di ieri non c'era Invece qui c'è E mi piace molto questa cosa Adesso passiamo al più difficile da aprire Che è questo qua La numero due Questa qui Vediamo Questa è un gel scrub detergente Da pelli normale a grasse Quindi per me va benissimo Allora diciamo che ultimamente Non uso più lo scrub classico fisico Perché ho scoperto che rovina molto la pelle Però ci sta diciamo Che questo sia gel detergente Per uso quotidiano Quindi sicuramente sarà una cosa Molto 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 delicata Mi vengo a dire Non male Non male Poi pompelmo rose Ci sta Poi questo volendo È molto pratico Per i viaggi Quindi sto valutando Se magari tenermelo Per quando andrò in viaggio Non male questa casellina Poi ricordiamoci che io Qui in teoria Avevo già visto un po' tutto Però vedete che non mi ricordavo neanche Quindi alla fine vedo il calendario dell'avvento Se uno li guarda un paio di mesi prima Un mese prima Così secondo me neanche si ricorda bene Che cosa c'è Quindi è come se ci fosse lo stesso La sorpresa Passiamo all'ultimo Che mi sa che io adesso Questo lo levo Perché sono ogni volta Devo fare sto circo Per toglierlo Che mi sa che Sarà più comodo Evitare Ecco Allora il numero 2 È sempre una busta Immagino Quindi Allora quella di Hier L'avevo tolta Quindi è questa Ok qui dentro C'è uno strumento A toccare Mi viene da dire Che c'è uno washi tape O comunque Sì una cosa quadrata Una confezione quadrata Comunque vabbè Apriamo Cioè quanto ci ho preso raga Lo sapevo Allora Franco Bolli No che figata Washi tape Ok no Non sono Franco Bolli Bello bello Guardate che bella la scatolina Un po' maciullata Devo dire Non so se l'ho maciullata Io mentre l'aprivo Però raga Wow Belli 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 Allora No ti tollero Bello Ma come funziona Adesso vabbè Non lo voglio rovinare Ho speso poco No raga adoro Perché mi toglie il fuoco Raga adoro Quei cosa c'è scritto Non ho capito Non ho capito per cosa Ma auguri No bello Mi stai quasi simpi Bello bello Ok Questo deve essere molto molto carino Adesso non Secondo me ogni pezzo Si può staccare Sì secondo me Tipo fatto a Franco Bolli Bello no raga Stupendo Molto carina questa idea Mi piace molto La giornata di oggi Già mi sento usiasmando di più Faccio fatica qui a dare dei voti Delle posizioni Però ci proverò Allora intanto in linea generale Mi è piaciuto praticamente tutto Quindi sono molto soddisfatta Però darei alla prima posizione Sono un po' indecisa Sia il Franco Bolli Mi sono piaciute tanto Perché è una bella idea Diciamo per personalizzare le agende Le note Veramente Io poi non ho idea di dopo Che cose ci siano Magari poi se li uso Vi faccio sapere Vi faccio vedere Fatemi sapere Quindi è molto carina E soprattutto originale come idea Però adoro che già il 2 dicembre Mi abbiano messo una candela Credo Il limited edition O comunque particolare Che io non ho mai visto Perché almeno io non l'ho mai vista Questa tipologia E poi In un formato comunque Carino Ci sta E poi vabbè Il colore Tutto raga Cioè Questa mi sa che pure Questa l'accendo adesso Perché mi ispira un botto Poi mi piace l'idea Di accendere ogni giorno La candela O la cosa che troviamo Quindi sono indecisa Per i primi due posti E anche la maschera Anche la maschera Mi ispira Diciamo che mi ispira Tutto oggi Come sempre Poi Poi è ovvio Su tutti i calendari Che l'interio ho acquistato Perché mi piacciono Quindi ci sa Che io sia un po' indecisa Però Se devo essere onesta Probabilmente darei Il primo posto A creamy Quindi rispetto a ieri Si è alzata di molto Assolutamente Il secondo posto Lo darei appunto A we make O la candela Il terzo posto Lo darei Forse al detergente Perché comunque È una cosa che Si usa di più È più lungo Quindi ha un consumo Più duraturo Ecco E il quarto posto La maschera Nonostante comunque Mi piaccia Mi piace le maschere Tutto però Se un minimo Mi conoscete Avete visto i video Io a volte C'è allora la maschera In tessuto La vedo come un po' Un lusso Come una cosa Che ti permetti Una volta Perché è un evento Speciale O perché vuoi Particolarmente Prenderti cura Di te Se no Mi preferisco Le maschere Quelle in crema Perché le usi Più volte Quindi c'è anche Un consumo Di prodotto Inferiore Di anche proprio Prodotto fisico Quindi preferisco Quindi per questo La metto al quarto posto Però secondo me Può essere super valida Poi ovviamente Fatemi sapere Se di qualche prodotto Volete sapere di più Che magari ci aggiorniamo Ovviamente Fatemi sapere Anche la vostra Lista preferita Dei prodotti Che vi faccio vedere Sia di ieri Anche visto che In questo vlog C'è anche quella di ieri Ma anche quella Di oggi Dei giorni futuri Fatemi sapere I vostri prodotti preferiti I prodotti di cui Magari volete sapere Qualcosa in più Che ovviamente Io vi aggiorno Se riesco già Nel vlog del giorno dopo Perché tanto li leggo E magari vi rispondo già Oppure se volete Una cosa un po' Più lungo termine Magari vi aggiorno Più avanti Come può essere Magari un gel detergente Che lo potrò provare Una volta E magari una volta Non basta Non lo so Fatemi sapere voi Insomma Se di qualcosa Volete più specifiche Io direi che vi saluto Grazie anche oggi Per essere stati con me Fatemi sapere tutto Nei commenti ovviamente Lasciate un mi piace Commenti Iscrivetevi Insomma tutto quello Che c'è da fare Ci vediamo domani Con un altro vlogmas Ciao ciao